Sassia, Pampo, conti per te, mangiate con perste, Ive e Nazio Lugano, in alto minuto a voi, con i suoi genitori, suoi genitori, suoi genitori, suoi genitori, suoi genitori e suoi genitori. Salutiamo gli arbitri e le due squadre del Tegro, che avviste della Lugano e auguriamo allora una buona partita.